La guerra si fa in molti modi, causando morti nel campo nemico e all'occorrenza reclutando quelli di un secolo prima. L'ha appena fatto il Parlamento di Damasco condannando il genocidio degli armeni organizzato dallo stato ottomano a inizio novecento. Una chiara mossa contro la Turchia che nelle ultime settimane ha rafforzato il suo sostegno ai ribelli antigovernativi della regione di Idlib, dove infatti l'artiglieria turca bombarda le postazioni dell'esercito di Assad a Sara Keb, appena conquistata dai governativi appoggiati dai russi. Il tutto a scapito della popolazione, che continua ad ammassarsi nei campi profughi in condizioni tremende. In una tendopoli un'intera famiglia è morta soffocata da una vecchia stufa, una neonata è morta di freddo. Chi non può scappare invece sono i guerriglieri dell'Isis. Un anno dopo la sconfitta del cosiddetto Stato islamico, nelle prigioni ce ne sono ancora migliaia, centinaia sono cittadini europei che i paesi d'origine non vogliono riprendersi. I kurdi, che quasi da soli hanno combattuto l'Isis e controllano le carceri nella zona di Kamishli, dicono di non avere i mezzi per investigare e processare come si deve tutti questi prigionieri. E prigioniere? Nell'annex, un sottocampo di Halol, ci sono circa 7.000 donne con i loro figli. Le straniere dell'Isis, tra cui almeno un'italiana, racconta un reportage del Foglio, che ricorda come molte di loro sono ancora piene di odio, minacciano e maltrattano quelli che vorrebbero andarsene. Senza contare le centinaia di bambini morti per fame, freddo e malattie.